Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su All You Can Italy, il canale in cui trovi tutto quello che ti interessa sull'Italia. Parliamo di lingua italiana, di cultura, di tradizioni, di viaggio, di tutto quanto quello che ha a che fare con il bel paese. Oggi ti proponiamo la nostra rubrica modi d'It in cui parliamo di modi di dire italiani e scopriamo in particolare cosa vuol dire il modo di dire a gonfie vele. Lo conosci già? A gonfie vele. Beh è un modo di dire molto positivo. Fammi sapere in commento se esiste un modo di dire simile anche nella tua lingua e come viene usato. A gonfie vele in italiano significa letteralmente procedere o navigare con il vento a favore e quindi in una condizione positiva e favorevole. Senza vento infatti una barca a vela rimarrebbe ferma. Quindi va tutto a gonfie vele significa va tutto per il meglio. In senso figurato questo modo di dire significa che qualcosa sta procedendo, sta andando nel migliore dei modi, ottimamente. Come va la vostra relazione? Tutto procede a gonfie vele. Come va con l'italiano? Tutto procede a gonfie vele. Va benissimo. Andare a gonfie vele significa procedere senza inciampi, favorevolmente. Questo modo di dire è sinonimo di andar liscio, ossia di non incontrare ostacoli, di procedere senza difficoltà alcuna. Vediamo qualche esempio. Signor Rossi, come procede il nuovo lavoro che le ho commissionato? Fila tutto liscio capo, va tutto a gonfie vele. Quest'anno gli affari sono andati a gonfie vele. Speriamo che anche il prossimo anno fili tutto liscio e senza covid. Ciao Luca, come va il matrimonio? Ho saputo che ti sei sposato da poco. Sta andando tutto a gonfie vele. Grazie. Lisa, come procedono i tuoi studi? A gonfie vele, professor Calderale. Tra qualche mese mi laurerò. La barca procedeva a gonfie vele, mentre all'orizzonte sembrava già intravedersi il porto. Oggi abbiamo imparato che a gonfie vele significa senza inciampi, favorevolmente, andare tutto bene, procedere senza ostacoli, procedere senza alcuna difficoltà. Spero che il vostro studio dell'italiano nel nostro canale vada a gonfie vele. Adesso vi ringrazio di averci seguito e di essere stati con noi. Se ne hai voglia, lascia mi piace ma soprattutto scriveci un commento. E se non vuoi perderti tutti i nostri prossimi video, mi raccomando, iscriviti al canale. Solo così non perderai tutte le lezioni che abbiamo in programma e con cui vogliamo trascinarti e trasportarti nel mondo della lingua italiana, della cultura italiana e del bel paese. Per ora però ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao da All You Can Italy! CREATED USING PALTOON